Bella a tutti signori e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e oggi siamo tornati con i nostri gamberetti alla conquista del mondo stagione 2 Signori, è tutto nelle nostre mani, abbiamo l'ultima partita di campionato, dovremmo essere qualificati per i playoff ma non ne ho la certezza Abbiamo anche gli osservatori che sono arrivati e ora andremo a vedere cosa ci hanno portato di buono Ma prima di partire col video signori, io vi ricordo di iscrivervi al canale Mel Gibson è contento, tra un film e l'altro riesce a scendere in campo anche con noi Ed è contento per averlo, perché l'abbiamo rimesso in campo praticamente Ma prima signori, viene di partire col video, io vi ricordo di iscrivervi al canale Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che dà dalla serie e al mio canale Vi ricordo di seguirmi su social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook E tramite i social vi aggiorno su quando escono i video e su quando siamo in live Sia su questa piattaforma che su quella viola degli streamer Anche lì mi trovate come Maullo941, i link li trovate in descrizione E vado a sponsorizzare i miei due abbonati, almeno fino a quando sto registrando questo video Ce ne ho solamente due E eventualmente troverete, trovate i link eventualmente di chi si è abbonato successivamente Anche sempre in descrizione Saluto affettuosamente Ombre Oscure e Magic Gamer Ita, i miei due abbonati Se eventualmente c'è stato qualcun altro che nel frattempo si è abbonato Troverete in descrizione anche il link di chi si è aggiunto al gruppo dei Maulloniani Doc Detto questo signori, possiamo partire con il video Ok signori, allora, allora, prima cosa andare a fare Andiamo a vedere l'osservatore cosa ci ha portato Allora, McGregor, da dove veniva McGregor? McGregor veniva dalla costa d'avorio Ci ha portato Aki Aki che non mi sembra tutta questa bellezza 63, 85, 17 anni, no Poi abbiamo Innocent Yaa Yaa mi sembra, mi sta simpatico Yaa, con questa capigliatura molto giovanile Yaa lo teniamo d'occhio A 15 anni, 350, gioca in tutti i ruoli Non ha ancora deciso un ruolo preciso dove giocare Però potrebbe essere interessante E poi abbiamo Alu Alu Non mi piace, mi dispiace Alu, 1,75, piedi sinistro, anche lui fa tutte cose Ma potrebbe avere un 36 di partenza Praticamente con un massimo di 78 Non mi piace, no Ci teniamo semplicemente Yaa, signori Yaa, Yaa Vediamo se Yaa prometterà bene E poi abbiamo Kilpatrick Kilpatrick che viene dal camera e non ci porta Oswame Sar Un portiere Che sinceramente non ce ne facciamo Assolutamente nulla Grazie mille per il tuo tempo Perso Poi abbiamo Pierre Saillet 68,92 Lui è un altro portiere di 15 anni Eh, Saillet Saillet, 1,97 Porca miseria Porca miseria Ragazzo promette bene Lo continuiamo a osservare, signori Poi abbiamo Joseph Thiam Ma sono tutti i portieri Ma che rotto di scato Non mi interessa E poi Faye 55,77 Mamma mia, è inguardabile No, no, no Faye mio Già è la faccia di uno che dorme così Pensa se ti mando in campo No, no, no Teniamo solamente 6 E, signori Che vediamo un attimino Come possiamo Se può tornare utile alla causa Andiamo a parlare con Mel Gibson Che è contento di essere tornato in squadra Tra un film e l'altro Riesce a trovare il tempo anche di essere uno dei nostri Eh, va bene Va bene Allora, avanziamo col calendario Un punto a testa per Moicambe Exterra Qua simuliamo velocemente, signori Mi sono rotto la scatola Ogni volta di avere la schermata E far vedere che stiamo a simulare gli allenamenti Tanto li abbiamo fatti E vanno bene così Andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti Dovremmo avere l'ultima partita di campionato, signori E poi playoff E tutto nelle nostre mani Ora, ora Non ho la certezza, signori Ma noi dovremmo essere già nei playoff Ma non ne ho la certezza Quindi E tutto nelle nostre mani Se ci basta un punto Ci basterebbe pareggiare l'ultima partita Per avere la certezza dei playoff L'importante è non perdere L'importante è non perdere Guarda lì Allison Che armadi a 4 ante Mamma mia Avercelo un difensore così Avercelo un difensore così Spopoleremmo il League 2 praticamente Dai, dai, dai Dai, mamma mia Che cazzo Quanti allenamenti stiamo a fare Mamma mia Sono tutti lucidi Il morale è alto Eccola lì la partita Sabato 15 maggio 2021, signori Ultima partita di campionato Facciamo gli ultimi allenamenti Giovedì 13 maggio E Prepariamoci per scendere in campo Abbiamo altri allenamenti da fare? No Prepariamoci per scendere in campo, signori Allora Il Forest Green è sesto Quindi apparentemente è uno scontro diretto Ottimo Fermi tu In Meshfield La partita in più Che ha 46 partite Con 67 punti L'Oldham ha 46 punti Ed è 72 punti Quindi dovessimo vincere Supereremmo anche L'Oldham Athletic Dovessimo vincere Dovessimo vincere, signori Signori Dovessimo vincere Allora Eeeh Giocano i titolari Per forza Eeeh Visto che è l'ultima partita Visto che è l'ultima partita Signori Ce la giochiamo Facendo simulazione partita Come finisce si racconta, signori Incrociamo l'ingrociabile Simulazione partita contro il Forest Green Ultima partita Decisiva Vediamo cosa succede Vediamo cosa succede, signori Speriamo che vada bene Non ho cos'altro incrociare, signori Sto incrociando tutto l'ingrociabile Ultima partita di campionato Forest Green Rovers Football Club Del 1889 Contro il Morecam FC Centuri Eeeh Siamo partiti Siamo partiti Mamma mia Mamma mia Mamma mia Il Forest tiene palla al centrocampo Il Forest tiene palla al centrocampo Giostano loro A noi basta un punto, signori Basta un punto Basta non perdere Noi potremmo scendere in campo Con questa modalità Noi potremmo scendere in campo Ma non scenderemo in campo Diamo fiducia ai nostri uomini Noi siamo gli allenatori Di questa squadra E dobbiamo dare fiducia ai nostri uomini Dai, 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 dai Perché non mi spuntano i nomi Di chi sta giocando Io a parte Leith Smith con il numero 9 E gli altri O forse Stockholm con il numero 9 Ah no, ce l'ho lì Ok, Stockholm con il numero 9 Leith Smith il 17 Dai, dai Fermatelo, fermatelo, fermatelo Fermatelo, Mellor Dai, dai No, no, no Non può stare in area lì No, che brutto rinvio Che brutto Adams Sblocca la partita per il Forest Forest 1, Moregambe 0 Forest 1, Moregambe 0 Dai, dai, bellissima L'apertura Puttala al centro Calcio d'angolo Dai, dai, dai Mucchio, 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 signori Mucchio Mucchio Dai Perché non l'abbiamo sfruttata meglio No, è uscita Ma che cazzo Cazzarola Cazzarola si può dire Sì, ma che cazzarola Porca miseria Il fatto che con questa modalità Io non posso Io le sostituzioni dovrei farle io No, no Signori Non può avere tutta questa libertà di gioco Però, porca miseria No, no, no 2-0 Mamma mia, signori Mamma mia Brutta, 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 brutta Dai, 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 Moregambe Dai, Moregambe La possiamo ancora pareggiare La possiamo ancora pareggiare, signori La possiamo ancora pareggiare Abbiamo avuto un crollo verticale Pauroso Sì, vabbè Vogliamo fargli fare il 3-0 Mamma mia Abbiamo avuto comunque un crollo verticale Pauroso Da gennaio in poi abbiamo avuto un crollo verticale Pauroso Se leviamo questa palla da lì sarebbe tanta roba Dai, 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 dai No, ma perché perdiamo palloni così? No, mamma mia Mamma mia, mamma mia Mamma mia Mamma mia che sta finendo male Terribile chiusura di stagione, signori Terribile chiusura di stagione Meno male che se n'è andato fuori Meno male che se n'è andato fuori Dai, dai, guarda Stockholm Guarda, vai, 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 vai Dai, stocco, crediamoci Crediamoci, dai, dai, dai Pareggiala, pareggiala No, sì, pareggiala Magari pareggiala Che è successo? Dai, proprio quando stiamo a tirare noi 3-0 Possesso palla 68-32 Riprendiamo, signori Ma non vedo Non vedo grossi chance di Di migliorare la partita Dai, 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 dai Dai, dai Perché mi è rimasto così su No, no Ma sì, giochiamo con l'offensivo Dai, dai, dai Ecco, l'azione Dai, dai L'allenatore della squadra di casa Sta per effettuare cambi Nella sua formazione E secondo me La scelta giusta È il momento giusto, Piero Welding Abbiamo cambiato la formazione Siamo diventati più offensivi Stiamo giocando in maniera offensiva Ma non abbiamo più niente da perdere, signori Non abbiamo più niente Non so neanche con che formazione stiamo giocando Forse con il 4-3-3 Perché Welding è passato da mattina Dai, 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 dai Ma porca miseria Ma porca miseria Dai, 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 signori Dai, signori Dai, signori Sessantacinquesimo Io dovrei fare qualche Qualche sostituzione in realtà Dovrei fare qualche sostituzione Però la squadra ancora tiene La squadra ancora tiene Dai, 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 dai Dai troviamo quantomeno il 3-1 Al settantesimo Mamma mia Mamma mia Dai, 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 dai Dai, signori Ma che passaggio brutto Ma che passaggio brutto Che caduta terribile Che caduta terribile, signori Vediamo se riusciremo Vediamo se riusciremo a portarci a casa Quanto meno I play-off Mamma, se giochiamo così i play-off Questa è una squadra che si gioca Per le off Il Forest Green Abbiamo preso 4 pere Da Forest Green, signori 4 pere Ma cosa ci urli? Cosa ci urli? Cosa ci urli? Dai, andiamo in ultra-offensivo, signori Andiamo in ultra-offensivo Non abbiamo più niente da perdere Tutti in attacco Tutti in attacco Mamma mia Venite tornate a casa a piedi Altro che autobus Oh, no Ma era goal Ma era goal Ma dai Tanta settesima E' finita Va bene Va bene, signori Niente da fare Con l'ultro-offensivo Anche con l'offensivo Abbiamo giocato un pochino meglio Ma loro non attaccavano più Praticamente Ci hanno fatto 3 pere nel primo tempo E' finita E' finita, signori Vediamo Se siamo riusciti a conquistare i play-off O se abbiamo fatto una figura terribile Rullo di tamburi che non abbiamo Simuliamo terribilmente il rullo di tamburi Oh Siamo riusciti a conquistarci i play-off E ce li andremo a giocare di nuovo contro il forest green Che Che Gran Che fortuna Che fortuna Il giorno 30 In casa Coppa Perfetto E andate e ritorno Andate e ritorno Quindi dovremo giocarci due partite di andate e ritorno E sperare E incrociare tutto l'incrociabile Signori Perché io voglio andarci Premio 1.046.000 Per la prossima stagione Va bene Vediamo Vediamo cosa non riuscirà fuori Signori Detto questo Io vi ringrazio per aver guardato questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i giungimenti E per il supporto Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per andarci avanti con questa avventura E giocarci i play-off Bella raga Ciao